Buongiorno a tutti oggi è il 5 di settembre e vi volevo far vedere che comincia a sbucare e a vedersi il primo verde. Questa addirittura ho messo già due foglioline. Qui sotto c'è un'altra piantina, qui è appena uscita, qualcuno sta ancora cercando di uscire dal terreno. Questa, questa, qui invece è appena uscita anche, si vede meglio, ci sono due foglioline lo stesso, qui si intravede un semino ma probabilmente voi non lo so se lo vedete proprio al centro. E nulla. Questa è la situazione. Nel frattempo siamo arrivati a quota 40 semini piantati. Qui ci sono 40 piantine. Ora le piantine non potrò tenerle tutte io. Quindi per adesso le tengo io e poi chi vorrà insomma adottarle e portarle a casa, come ho sempre detto, possiamo vederci su Bari e provincia. Ve le do e poi magari ve ne prendete cura voi. Ciao! 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 Ciao!